Abbiamo bisogno di fare la differenza in Europa e se io devo andare al Parlamento Europeo per dar forza all'Italia, lo faccio volentieri. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Cosenza per partecipare ad una iniziativa elettorale del suo partito che, nelle consultazioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, ha dato vita a una lista di scopo. Stati Uniti d'Europa con più Europa. Penso che la Lega sia uno scandalo. La Lega è uno scandalo per l'autonomia, la Lega è uno scandalo per le posizioni che dicono meno Europa quando le nostre aziende, gli agricoltori, la nostra sanità ha bisogno di più Europa e degli Stati Uniti d'Europa, ma soprattutto la Lega è uno scandalo perché accusare Sergio Mattarella significa indebolire l'unica figura di garanzia di questo paese. Io sono orgoglioso di aver portato Sergio Mattarella alla guida della Presidenza della Repubblica 9 anni fa e penso che questo dimostri che gli Stati Uniti d'Europa vogliono bene alle istituzioni, la Lega no. Non mancano anche le critiche agli avversari politici per le candidature. Renzi ne ha per tutti, dalla Meloni alla Schlein, passando per Tajani. Penso che l'Europa decida delle vostre vite, l'Europa decida dell'agricoltura, della pesca, delle infrastrutture, della sanità. Cioè se in Calabria ci sono delle opportunità da prendere sull'agricoltura, la pesca, le infrastrutture, la sanità, queste opportunità vengono dall'Europa. Quindi noi dobbiamo mandare in Europa delle persone che davvero ci stanno. Noi abbiamo invece tutti gli altri partiti, penso a Meloni, penso a Schlein, penso a Tajani, che fanno delle candidature finte. Loro si candidano per non andare in Europa. Questo è inaccettabile ed è il grande punto di forza degli Stati Uniti d'Europa. I nostri candidati, se eletti, ci andranno davvero. Io penso che abbiamo raggiunto il punto più basso. Il punto più basso perché oggi la Calabria non può che ripartire. Lo sapete bene, lo sapete bene voi in particolar modo calabresi. Lo sanno i nostri candidati calabresi. Dalle nostre eccellenze di questo territorio noi possiamo fare la differenza in Europa. Però votate per gente che poi in Europa sa come si fa e ci sa stare.